Thomas Ziliakus inizia a sparare i primi botti e per il momento lo fa solo a parole. Non ha ancora avanzato una proposta, ma l'imprenditore finlandese è già concentrato sull'Inter dei suoi sogni e su un possibile mercato che sarebbe intenzionato a portare a termine negli anni. Fa tre nomi su tutti, Bappé, Holland e Pedri. Solo a sentirli qualsiasi tifoso nero azzurro avrebbe gli occhi a cuoricino, figuratevi se un giorno dovessero davvero vestire la maglia dell'Inter come spera di poter fare Ziliakus. Non offrirà quindi tutti i 2,5 miliardi a Zhang per l'acquisto della società, ma una parte la terrà per investimenti futuri, lui insieme a una cordata di altri investitori. È una cosa concreta? Non possiamo ancora dirlo, ma sicuramente Ziliakus con le parole è molto bravo. Chissà che un giorno non faccia davvero sognare i tifosi dell'Inter proponendo questo terzetto di fenomeni sul campo.